Giovani, buongiorno e ben ritrovati sul canale di Neapolis 1926 Per prima cosa il mi piace, un commento ed iscrivetevi al canale, è gratis Signori, signori, è passato tanto tempo dall'ultimo video, se non sbaglio 3-4 giorni, ma non mi ricordo di preciso Scusatemi l'assenza, ma come sapete ora c'è la sosta Se non sbaglio ora fanno due settimane di sosta i giocatori del Napoli, poi si ritrovano, andranno in Turchia e lì ci saranno delle amichevoli Occhio, perché i giocatori che sono andati in nazionale sono 5, quindi potenzialmente il Napoli ha praticamente quasi tutta la rosa al completo Detto questo, signori miei, detto questo, sapete no, in questi ultimi giorni sulla gazzetta, tutto sport e tutte queste altre Si è parlato molto, molto di questa sosta dei campionati e di tutto Praticamente, ce la stanno gufando, ce la stanno gufando, perché a detta di molti, e anche intervista di poche ore fa, quella di Rabiot dal ritiro della Francia Dove ha detto, ma non vi preoccupate, dopo il campionato, dopo la sosta dei mondiali, la Juventus di sicuro prenderà tantissimi punti al Napoli Io vorrei dire al signor Rabiot, che dalla nonna giornata ad oggi è sempre a meno 10 Cioè, hai fatto 6 vittorie di fila e stai sempre a meno 10 Diamine, il Napoli prima o poi crollerà, perché il Napoli, guaiù, è impensabile che facci solo vittorie e solo pareggi È impensabile, ragazzi, quindi, arrivatevelo proprio dalla testa questa cosa Ve lo dico già oggi, quindi non vi preoccupate Qualche punto, naturalmente, ce lo avrete a prendere, però guaiù State a meno 10 E sembra che la Juventus, a detta di tanti giornalisti italiani, sia a meno 1 Non a meno 10, a meno 1 Quindi, vabbè, tralasciando questo, signori Come detto, ci sono poche notizie Comunque, questa cosa è che loro si vanno a fare il ritiro in Turchia Luciano, ma dovresti fare il trapianto dei capelli in Turchia? No, perché, sai, da quelle parti ci stacca queste cose italiane che fanno queste cose ai capelli Stiamoci accorti Guardiamogli la testa al buon Luciano Spalletti, a parte questa stronzata, ragazzi Signori, nelle ultime ore, negli ultimi giorni Se non sbaglio, ieri è uscita questa notizia, questa mattina, scusatemi Sta impazzando sui social Questa notizia, ragazzi Insigne al Napoli da gennaio a marzo Pazzavoce di mercato Può arrivare in prestito Cioè, ragazzi, io Io, io Con tutto il bene che io posso avere a Lorenzo Insigne Che senso avrebbe questa mossa di marketing? Ma ora la andiamo a leggere, come mai, eh? Però, aiù Cioè, stiamo andando così tanto bene Dobbiamo per forza aiutare quelle altre squadre Cioè, ragazzi, dai Facciamo i seri Comunque Una particolare voce di mercato Ipotizza un ritorno al Napoli Dell'ex capitano da gennaio a marzo Prima dell'inizio della MLS Anche in queste ultime ore Crescito ha deciso di abbandonare Il calcio Quindi non penso Ha già dato l'annuncio Quindi è praticamente ufficiale Quindi Crescito dovrebbe lasciare per sempre il mondo del calcio Si è fatto fuoco un trat E poi gliel'ha messa a quel posto Detto questo Andiamo a leggere l'articolo Il Napoli, in vista del mercato invernale Proverà a capire se ci sono i margini Per puntellare il già ottimo organico Messo a disposizione di Luciano Spalletti Alla squadra azzurra manca un sostituito reale A Kvica Kvarascheia Ragazzi Io già che ho letto questa stronzata È allucinante Perché tu in quel ruolo In quel ruolo esterno Esterno Dell'auto di sinistra Potrebbe giocare Elmas E lo sta facendo benissimo Potrebbe giocare Raspadori Che è adattato Ma potrebbe farlo benissimo Se no Potresti portare Politano Anzi potresti portare Lozano Da quell'altro lato Quindi Quando io dico Manca un sostituto reale Di Kvica Kvarascheia Ragazzi Già lì mi sale il sangue al cervello Perché non è possibile Che questi vogliono fare Trapelare qualcosa Che non è vero Perché voglio Quando dicono La squadra non è ancora al completo Forse manca qualche pedina fondamentale Andiamo a leggere Difatti i vari Elmas E Raspadori Che si sono alternati In assenza del Giorgiano Non sono esterni e sinistri Ma i calciatori Adattati in quel ruolo Ve l'ho detto Sono adattati Però lo fanno egregiamente A differenza di altri giocatori Delle altre squadre di Serie A Continuiamo Continuiamo Secondo quanto riferito Da Sportcaffè24 La società potrebbe essere Un'ipotesi suggestiva E soprattutto Senza particolari Esborsi economici Ovvero Il ritorno di Lorenzo Insigne L'ex capitano Ha lasciato in Napoli La scorsa estate Per iniziare una nuova avventura NMLS al Toronto Il campionato americano È terminato poche settimane fa Con la vittoria De Los Angeles Galaxy Di Giorgio Chiellini Il campionato Ora è fermo Da gennaio a marzo Lorenzo Insigne Sarà fermo senza giocare Anche dal punto di vista Regolamentare L'operazione Non sarebbe impossibile Parleremo Parleremo Di un prestito Gratuito Di pochi mesi Da gennaio a marzo Fino alla ripresa Della MLS Allora Io no Finiamo Finiamo di leggere l'articolo Non sarebbe la prima volta Che una cosa del genere Si verifichi in Italia Nell'estate 2008-2009 Fu David Beckham A passare Dai Galaxy Al Milan Inizialmente Il prestito Doveva essere Di pochi mesi Ma poi I due club Si sono accorti Accordato Per un prolungamento Fino a fine Della stagione Per Insigne Sarebbe un sogno Ma al momento Stando a quanto Raccolto Dalla nostra relazione Non ci sono conferme Su tale indiscrezione Quindi Sono voci No? No iniziamo Con le voci Di calciomercato Allora Punto uno Punto uno Punto uno Cosa ce ne facciamo Di Lorenzo Insigne Dopo che A detta di molti Molti Giornalisti Napoletani E non E gente che lavora Nell'ambiente SSC Napoli Proprio i vari Lorenzo Insigne Caliducco Libali Tris Mertens Fabian Ruiz Goulam Rena Poi che ci mettiamo più Albiol I vecchi senatori Del Napoli Erano stati Allan Erano stati I vari Artefici Proprio della Mancata Del mancato Scudetto Della scorsa stagione Perché Volevano essere Al di sopra Dell'allenatore Quindi Punto uno Secondo voi Luciano Spalletti Va a chiedere A Giuntoli Ma sai Cristiano Stiamo andando bene Non è che potremmo Tornare Ai vecchi giocatori Della passata stagione Proprio per aiutare Le altre squadre A recuperarci Qualche punto Punto secondo Lorenzo Insigne Che ora È fermo Con il campionato Canadese O americano Cazien Non si fa Le sue vacanze Ma viene a giocare A Napoli Quindi questo Rifiuta Di giocarsi Di farsi Le sue vacanze Alle Maldive Alle Bahamas In Florida Dove esso sia Per venire a giocare In Italia Al freddo Perché ora fa freddo In Italia Gennaio e mare Quel periodo più freddo Dell'anno Viene in Italia Punto 3 Fattore economico Perché giustamente Qualcuno lo dovrà Pur pagare Questo prestito Faranno 50-50 Non lo so Non lo so E non lo voglio sapere Quindi Questi sono i tre punti Ce ne sarebbe un quarto Ma non lo dico Perché sarebbe Troppo ipocrita Dirlo Anzi ve lo dico Il quarto punto Lorento Che sta Sta inondando Le pagine social Del Napoli Insegnare Il ritorno Del capitano Il ritorno Del magnifico Il ritorno Ragazzi Personalmente Per me Può rimanere in America In Canada Rocazza Stais Quindi Gentilmente Non accostate più Lorenzo Insigne Alla SSC Napoli Anzi accostatelo Quando dovremmo fare I ringraziamenti Se Eventualmente Il Napoli Dovesse vincere Qualcosa di importante Da qui ai prossimi 3-4-5 anni Perché Wajum Naturalmente Anche grazie a questi Giocatori Siamo rimasti al top A livello italiano A livello europeo Un po' meno Perché Abbiamo sempre Faticato Diciamoci la verità A livello europeo Però Il passato È passato Wajum Non facciamo Questo errore Di ritornare al passato Come ha fatto La Juventus Con i vari Bonucci E poi di Ripigliare Allegri E poi ti vai ripigliare Questo E poi tu ti vai ripigliare Questo Le minestre riscaldate Ragazzi Lo sapete Non vanno mai bene Sempre e comunque Forza Napoli Da vostro Napolis 1926 Ciao a chiù